Bentornati a tutti su Antenna 2 TV ed eccoci qui di nuovo insieme pronti per iniziare un altro appuntamento con 20.000 giri. Il programma di Antenna 2 è dedicato interamente al mondo della Formula 1. Saluto subito i nostri ospiti Mario Zucchelli e salve anche a Marco Iori. E allora eccoci qui, finalmente buone notizie per gli amanti e appassionati della Ferrari perché ieri in Bahrain un risultato sorprendente che nemmeno noi ci aspettavamo così positivo anche come avevamo anticipato nella scorsa puntata di 20.000 giri e invece una bella notizia, una gran bella notizia con il trionfo di Leclerc e il secondo posto di Sainz. E allora prima di entrare nel vivo di questa puntata di 20.000 giri con l'ausilio della grafica andiamo anche a vedere qual è al momento dopo questa prima prova del Mondiale 2022 la situazione del Mondiale Piloti. In testa abbiamo Leclerc con 26 punti, davanti a Sainz secondo con 18, terzo Hamilton 15 punti, quarto Russell con 12 e poi Magnussen 10 e botta sotto. Vediamo anche qual è la situazione del Mondiale Costruttori dove Ferrari ovviamente dopo il risultato di ieri è prima con 44 punti, davanti a Mercedes 27 punti, terza Haas con 10 punti e poi seguono Alfa Romeo a 9 punti, Alpine 8 e Alfa Tauri 4. E allora come dicevamo Marco vengo subito da te perché ieri una vittoria possiamo dire ineccepibile per Leclerc anche al netto dobbiamo dirlo da quanto abbiamo potuto vedere dei problemi sul finale di Max Verstappen. Quindi un'analisi un po' di questa gara del pilota di casa Ferrari di ieri e soprattutto che sia effettivamente l'alba di una nuova era? Allora una Ferrari quando fu presentata fu definita bellissima, stavolta era definizione esatta, giusta e adesso oltre ad essere bellissima è anche veloce. Bellissima e fortissima potremmo dire. Bellissima, potentissima, grandissima, con un pilota grandissimo, quindi un connubio perfetto. ieri hanno con quasi facilità addominato la gara, non ha avuto un minimo di esitazione, niente. Anche quando si sentiva Leclerc parlare col boxe era tranquillo, quando si sentiva Verstappen era ansioso, disperato. Quindi anche Hamilton stava sempre sulla... quindi già quello dimostra la macchina è riuscita. Adesso chiaramente è la prima gara, tutto quello che volete, però è solida. È già un buon segno. Non ha sbagliato, non c'è stata una sbavatura, sia nelle partenze, nelle curve, nei cambi. È un connubio soprattutto Leclerc-Ferrari, bellissimo. Anche Sainz ha fatto la sua, però perlomeno in questo momento è inferiore a Leclerc. Però il primo o secondo ci stava. Ci stava perché delusione Red Bull, una Mercedes in difficoltà perché è riuscita a prendere il terzo posto. Per fortuna l'ha messo lo stesso Hamilton. Il resto è anche una bella gara. Cioè funziona il cambio di tipo di macchina, eccetera. Così il nuovo corso funziona perché sono stati bei duelli anche dietro. E macchina che vanno con nuovi interpreti. Effettivamente ieri abbiamo visto una gara come forse non ne vedevamo da tempo. A livello di dinamica, a livello di sorpassi, a livello di spettacolarità del Gran Premio. Sì, sì, sono viste anche altre case che, diciamo, un dominio generale dei motori Ferrari. Certo, certo. Perché nei primi viaggi sono detto il tremanato. Esatto, in quattro motori. Per cui può essere, almeno ok, è la prima gara, vero, però può essere un buon auspicio in generale per questa nuova stagione. Che forse tornerà ad appassionarci anche un po' di più. Perché, dobbiamo dirlo, dopo lo strapotere degli ultimi anni di Mercedes e Red Bull, la cosa che si lamentava di più era proprio ormai la staticità dei Gran Premi. Già dalle prove libere, con le qualifiche e poi con la gara della domenica. E quindi speriamo che sia appunto di buon auspicio per questa nuova stagione. Mario, vengo subito da te perché, ovviamente, dobbiamo fare un po' un'osservazione anche su Verstappen. Perché, campione del mondo dall'ultimo anno, si ritrova alla prima gara con tutti questi problemi. E poi, come abbiamo potuto vedere, la situazione nel finale ormai della gara. E ha lamentato dei problemi, allora, guardando da chi era dietro, vale a dire da Science, nella ripartenza, che poi si è visto che, soprattutto nei rettilinei, c'era un caricamento anomalo dell'ERS e che non doveva essere, diciamo, in rettilineo. Pertanto c'è stato un problema del motogeneratore dell'ERS, vale a dire che quel motogeneratore che ricarica le batterie per poi avere la potenza da introdurre nel motore endotermico quando il pilota lo chiede con il pulsante push-to-push. Poi sembra anche che ci sia stato un problema al pescaggio della benzina e un problema anche al collettore, quello che è successo al motore Honda dell'Alfa Tauri. Un collettore che ha preso fuoco e che ha mandato poi a fuoco la monoposto dell'Alfa Tauri. Ci sono stati dei problemi, poi si è lamentato anche di un indurimento dello sterio, vale a dire dello sterzo. E lì probabilmente sarà stata una valvola, una valvola che comanda questo sterzo. Una valvola, può darsi quello... Sarebbe stato il meno dei mali perché gli avrebbe permesso comunque di concludere il Gran Premio, secondo me, al secondo punto. Ci sono stati proprio dei problemi con il caricamento dell'Erse che in effetti poi non ha più caricato e la macchina più a piano ha dovuto parcheggiarla nel box. Ci sono stati questi problemi, adesso non sono dei problemi insormontabili perché in effetti si rivedrà probabilmente il motogeneratore dell'Erse e poi questo tipo di problema verrà sicuramente subito superato. Ecco, non è un grosso problema. Ecco, Marco, invece io volevo tornare da te perché è lecito anche domandarsi quando Mercedes potrà tornare competitiva. Beh, bisogna vedere perché non si capisce bene che i problemi che aveva, probabilmente di stabilità. Quindi credo che però un paio di gare sicuramente dovrebbe soffrire. Dopo chiaramente hanno i tecnici e tutto il resto, stanno studiano anche gli altri, poi andranno a copiare certamente varie situazioni. Non è proprio facile anche perché se non era nuova, ecco, quindi anche i cambiamenti sono più difficili da fare. Loro sono stati più all'avanguardia perché hanno portato delle soluzioni più diverse, a quanto pare quelle mantenute un po' più tradizionali che è la Ferrari soprattutto, che non è stravolta, eccetera, per ora funziona il vecchio sistema. Possiamo parlare magari di un progetto estremo per Mercedes? Sì, sì, sì. Molto avanzato, però è anche, credo, anche di motore perché anche ieri non andava, non era top. Motore ieri Ferrari nettamente superiore. L'onda è andato in TIT, anche perché adesso è passato in gestione a loro, direttamente a loro, sì. Quindi questo qui è un brutto segno. Comunque tornando a quanto ha detto Marco, giustamente, in un'intervista che ha rilasciato Toto Wolff, ha detto che per quanto riguarda gli agree, vale a dire gli aggiornamenti, un pacco consistente di aggiornamenti sulla monoposto Mercedes, dovrebbe arrivare solo dal Gran Premio di Ibrona, vale a dire che è il quarto appuntamento, secondo quanto ha detto lui. Certo, è un progetto estremo, tra l'altro c'è un'indiscrezione che ve ne avevo forse già anche parlato, non mi ricordo se l'avevo parlato settimana scorsa, c'era un'indiscrezione che mi aveva sempre detto questo ingegnere, nello sviluppo della monoposto, della Ferrari, questa idea di spostare i radiatori verso il retrotreno, per riuscire a dare, a estremizzare molto di più, per quanto riguarda i sideboard, vale a dire le fiancate, Enrico Cardile proprio, abbiamo un'indiscrezione, ma Enrico Cardile lo ha ribadito in un'intervista che si è potuta leggere sulla Gazzetta, peraltro voglio dire una cosa ufficiale, ha detto che a quell'idea lì, insieme agli chef designer dell'aerodinamica, e insieme ai motoristi, l'avevano pensato anche in Ferrari, in Ferrari, poi l'hanno portato, hanno portato questa idea, l'hanno portata al simulatore, e al simulatore ci hanno pensato, in un attimo si sono accorti che offriva più svantaggi che vantaggi, pertanto quella soluzione lì l'hanno scartata, la Mercedes ovviamente avrà fatto, io sono stupidi l'ingegnere, per carità, ecco, probabilmente avranno avuto, nelle loro valutazioni, nelle loro, voglio dire, nella galleria del vento, nelle loro simulazioni, probabilmente hanno trovato forse più vantaggi che svantaggi, io continuo a ripetere, anche e soprattutto, il mio sospetto, proprio ieri, mi dà l'impressione che il mio sospetto sia stato abbastanza centrato, avendo spostato queste masse radianti al retrotreno, secondo me i Mercedes hanno appesantito il retrotreno, tant'è che abbiamo visto che la Mercedes è stata la prima, che è dovuto, perché subito Hamilton si è lamentato che aveva i pneumatici indropofo, vale a dire ormai era quasi al limite, quasi al limite, 11 giri, esatto, 11 giri sono proprio molto pochi, 11 giri, per l'altro voglio dire, secondo me, avendo spostato proprio questo peso sulle ruote, vanno ad aggravare, diciamo, sulle ruote posteriori, può darsi che possono ritornare, diciamo, un layout, diciamo, più convenzionale, vale a dire, riportare i radiatori vicino ai side-upod, vale a dire che sono vicino dove c'è il coppito del pilota, ecco, come li hanno più o meno un po' tutti, ecco, può darsi che possono tornare, diciamo, a quella configurazione lì, perciò, fino a Imola, comunque, ecco, Toto Wolf ha detto che fino a Imola non ci sarà la possibilità di arrivare, cioè, in tempi, in tempi, prima, ecco, i tempi, lui li ha elencati, arriveranno, diciamo, delle novità, ecco, riusciremo a portare probabilmente una monoposto nuova negli agrei, negli aggiornamenti, e qual tanto, non prima del Gran Premio di Imola. ecco, Mario, io ne approfitto per rimanere con te, visto che abbiamo parlato anche di pneumatici, per aggiornarci proprio in merito alla nuova regola, che da quest'anno permette di avere pneumatici liberi, la scelta libera di partire nel Gran Premio. ci spieghi meglio come, cosa prevede questa regola? Sì, questa regola che, voglio, per carità, non è che me ne voglia, diciamo, vantare, e ovviamente non è che in federazione hanno chiamato me per sentire cosa ne pensavo, però, chi ci segue assiduamente, i telespettatori, si ricorda che ero già un paio d'anni che ritenevo anacronistica la, la regola, questa è brava, esatto, la regola che, sapete che da anni c'era la regola che i piloti che entravano nel Q3, vale a dire, i piloti che entravano nel Q3, vale a dire, nella qualifica che valeva la pole position, dovevano partire la domenica nella griglia di partenza con il compound di pneumatici che avevano disputato la Q2 e lo ritenevo un po' una regola abbastanza anacronistica, da quest'anno quella regola più, questa regola è stata abolita, pertanto sulla griglia di partenza ogni pilota può scegliere una delle tre mescole che la Pirelli ovviamente porta ad ogni gran premio, vale a dire, o la soft, o la media, o la hard, o la super soft, la media, o la hard, ecco, sono cinque le mescole che sono a disposizione della Pirelli, ad ogni gran premio ne porta tre, la domenica tutti i venti piloti hanno la libertà di scegliere con quale mescola partire per disputare il primo stint e il gran premio. Perfetto, allora abbiamo ancora un minuto prima della pausa pubblicitaria, Marco vengo da te, perché voglio chiederti un commento anche sulla prova di ieri di Sainz, come lo vedi non solo dopo la prova di ieri ma anche sul proseguio appunto della stagione? Sainz è un'ottima spalla, almeno in questo momento è un'ottima spalla, non ha quello spunto che ha, soprattutto non ha lo spunto, mi sembra, nelle prove che ha Leclerc, e ieri non è che abbia sofferto, ha tenuto su, è un diesel, come si è sempre definito, e matura, ieri ha aspettato, ha attaccato, non riusciva, in quel momento non riusciva, però ha portato a casa il secondo posto, e va bene, è una buona spalla, ecco non si può paragonarli, ecco in questo momento non c'è nessun, assolutamente non c'è possibilità di confronto, ecco una è la prima, l'altra è la seconda guida, giustamente e poi siamo proprio all'inizio della stagione, per cui staremo a vedere. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, a tra poco. Rieccoci insieme, seconda parte di 20.000 giri, Mario arrivo subito da te, perché a quanto pare c'è già un po' aria di polemica, dopo questa prima prova del mondiale, perché non che sia poi una polemica così ampia, così grande, però girano voci che Mercedes e Red Bull, dopo la gara di ieri, sarebbero già in procinto di chiedere, di alzare il budget a disposizione, per poter raggiungere Ferrari. Cosa sappiamo in merito? Diciamo che per regolamento, l'anno scorso erano 155 milioni di euro, che erano disponibili per sviluppare l'intera stagione, quest'anno sono uscisi a 145 milioni di euro. Questa polemica, voglio dire, potrebbe essere un po', penso, del mio parere, un po' figlio a se stessa, e secondo il mio modesto parere, vorrei anche dire una cosa, che i vertici di Ferrari dovrebbero andare in federazione, e dare un out-out alla federazione dicendo questa è la regola e con questa regola dobbiamo andare a fine stagione. Se Mercedes, se Mercedes, non dico che ha sbagliato le valutazioni del monoposto, sbagliato no, voglio dire, però se ci sono questi problemi, che ha sbagliato in parte, ci sono stati, si è preso una strada estrema, e ci si è accorti di essersi buttati, probabilmente si sono infilati diciamo in un cul de sac, e quella non è colpa certo diciamo della Ferrari, voglio dire, il budget K c'è ed è valido per tutti, allora vorrei dire anche l'anno scorso la Ferrari pagava un gap di 50 cavalli, c'erano, il power unit non era legato al budget K, ma il power unit era congelato, e la Ferrari non poteva andare in federazione a chiedere, a dire, potete darmi la possibilità di lavorare sul power unit per incrementare le performance, non lo si può fare, diciamo, le regole sono queste, bisogna diciamo accettarle, la Mercedes, la Mercedes è quella che ha più problemi, diciamo, Mercedes e Red Bull, cercheranno di lavorare al meglio possibile di questi, con questi 145 milioni, quest'anno è così, l'anno prossimo bisognerà valutare se hai sbagliato un po', hai preso una strada sbagliata, ecco, allora te la devi portare, la potrai migliorare, ma lo puoi fare stando nei 145 milioni, allora a questo punto la regola del budget K cosa serve? Se la federazione dice, vabbè, allora vediamo ancora 50 milioni di euro per la possibilità per poter migliorare, allora chi è, come in questo caso, la Ferrari che è riuscita ad indovinare, diciamo, la monoposto che ha delle ottime performance e quant'altro, cosa potrebbe dire? La regola, la regola c'è, la regola c'è, deve essere solo fatta rispettare. Io, credo che il vantaggio che ha preso la Ferrari sia dovuto anche al simulatore nuovo. Ah, senza dubbio. Quello lì credo sia stato il cavallo di battaglia, mentre gli altri sono rimasti fermi ai tradizionali e quanto pare la Ferrari è andata avanti con quelli e se vede la rivoluzione della macchina credo che nasca lì. Ecco, nasce lì. Bravo, ricollegandovi. Dopo appunto loro i soldi hanno speso con la cifra lì, hanno simulato lì, esatto, non hanno i soldi per simulare. Peccato, cioè voglio dire, peccato la Mercedes, cioè peccato la Mercedes, poteva capitare alla Ferrari. Sei sbagliato. Se hai sbagliato in parte, hai fatto anche, hai scelto una strada estrema, è chiaro che poteva darti magari anche 7-8 decimi di vantaggio. Questo, diciamo, non è successo, si sono accorti di aver intrapreso una strada sbagliata, devono fare marcia indietro, faranno una monoposto più convenzionale e quant'altro. È chiaro che dovranno rispettare questo budget card. La regola c'è ed è giusto che venga rispettata anche per i signori tedeschi. La regola ci sono, se no a questo punto le regole cosa vengono messe a fare? Sì, certo. Ecco, Marco, invece, il proseguimento di questo mondiale è vero, siamo all'inizio, una prova non può fare testo effettivamente, anche perché la stessa Mercedes, come ci ha detto prima Mario, tramite Toto Wolf ha fatto sapere che alcune modifiche ulteriori verranno apportate da Imola, cioè ovvio dopo una gara i fattori, le incognite sono ancora tantissime, però dal punto di vista dei piloti, in questo caso mi riferisco alle Clerc, Verstappen ed Hamilton, il proseguo della stagione e tu come lo vedi? Allora, Verstappen e Hamilton, Verstappen è impossibile, eccetera, però è sempre un gran pilota, Leclerc ha maturato tanto, cioè Leclerc ha sempre chiesto la macchina, adesso ce l'ha, ha dimostrato che ha un binomio forte, credo che a livello di piloti siano abbastanza equivalenti, dopo c'è quello che è più bravo a aggiustare o meno la situazione, però mi sembra che la forza di Leclerc è la freddezza, perché è sempre determinato, mentre Verstappen anche quando parla nel microfono è sempre agitato, quindi ha sempre quel nervosismo che può giocare brutti scherzi, che a volte è vero giova, ma determinate situazioni può essere buono, perché è adrenalina, però l'altro sa testirla, adesso che è anche la macchina vedremo. Vedremo, ma potrebbero essere questi tre piloti che si giocheranno la vittoria, oppure qualche inserimento anche di altri? No, a questo momento sono al top, però abbiamo visto tante macchine che stanno uscendo, cioè le due Red Bull, perché sono i tre piloti sono quelli lì, poi ci sarà qualcuno che si inserisce, se ho visto avanzare qualcuno. Sì, va bene, ma la stagione è lunga, abbiamo ancora 22 Gran Premi. E poi è sempre l'abbigliamento con la macchina, abbiamo visto appunto un avanzamento dei piloti Ferrari, su, cinese, è arrivato decimo, anche l'Alfa Romeo sta andando forte, anche sono outsider, però molto, molto più avanzati rispetto all'anno scorso. Ecco la 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 ecco sì, infatti, infatti, che apparentemente invece nella scorsa puntata avevamo parlato bene di McLaren, perché sembrava la terza forza esatto, esatto, è sparita. Staremo a vedere nel prossimo Gran Premio. Ecco, Mario, invece, pare che abbiamo parlato di scuderie, quindi mi collego proprio a questo, perché pare che negli anni a venire, 2025-2026, se non erro, in Formula 1 ci sarebbero delle nuove scuderie pronte ad entrare, vuoi parlarci un po' di questa notizia? Sì. E a tuo avviso può essere un bene per la Formula 1 che arrivino nuove scuderie? Allora, dopo mesi di pur parler indiscrezioni e quant'altro, ora la notizia è ufficiale, dal 2026 la Porsche con i suoi motori equipaggerà la Red Bull che fino al 2025 i bibitari continueranno con il Power Unit Honda. Altra notizia riguarda il marchio Audi, i vertici Volkswagen dopo aver piazzato Porsche in matrimonio con Red Bull stanno intensificando i colloqui con McLaren con l'intenzione di fornire i motori marchiati Audi, qui però per ora i vertici McLaren starebbero targiversando sull'operazione, non tanto perché nutrono dubbi sul motore Audi, ma perché loro vorrebbero allargare la partnership anche per la fornitura dei motori Audi anche sulle vetture di serie, qui Volkswagen non avrebbe ancora deciso in merito su questa operazione, ricordiamo che Volkswagen ha il marchio Lamborghini e nelle supercar ci potrebbe essere un inconflitto di interessi a fornire il motore Audi anche ad altre auto di serie come la McLaren, novità per quanto riguarda anche di una nuova scuderia in Formula 1 l'americano Mario Andretti e il suo Entourage ricordo che loro sono protagonisti già da diversi anni nella serie americana IndyCar starebbero valutando molto seriamente di entrare in Formula 1 le loro intenzioni sarebbero quelle di acquistare un tigian presente in Formula 1 gli occhi sarebbero caduti sulla scuderia Ass che guarda caso il proprietario è già americano è Geniax per ora Genè non ha alcuna intenzione di vendere il team pertanto la famiglia Andretti starebbe sondando altre strade escluso che venga in Formula 1 con il loro team l'intenzione è quella di acquistare un team già presente in Formula 1 certo è che se andasse in porto fra alcuni mesi l'acquisto la scuderia Andretti scenderebbe in pista dal 2024 in poi bene grazie Mario per essere entrato nel dettaglio di questa notizia che appunto è stata resa ufficiale proprio di recente e Marco volevo chiederti se appunto vedi di buon occhio questa mossa che interesserà la Formula 1 negli prossimi anni appunto vedi bene l'ingresso di nuovi marchi nel mondo della F1 chiaramente si allargano tutti gli orizzonti tutti i sensi e dopo è questione sempre di soldi alla fine se entrano quei nomi lì entrano anche i soldi viene allargato adesso con la gara di ieri si dà un altro tono alla Formula 1 perché credo che chi l'ha vista la rivedrà anche la prossima assolutamente e parlerà anche con altri credo che porterà qualcosa di nuovo anche ripeto le scuderie inferiori hanno fatto delle battaglie e appunto anche il fattore che vedi che la macchina sta vicina stanno vicine con queste nuove regole eccetera così la macchina è più combattuta è meno come si può dire come era l'anno scorso si meno monotona monotona ecco si si è molto più accattivante ecco Mario invece tu vedresti bene una partnership con un motorista in futuro per quanto riguarda la Ferrari no beh Ferrari ovviamente essendo un costruttore globale rimarrà sicuramente con i suoi motori certo chissà tra vent'anni noi ovviamente non ci saremo più voglio dire chissà dove potrebbe essere la Formula 1 chissà magari cambieranno magari anche i nomi che Formula 1 cioè dico roba recente diciamo di questi anni fino al 2025 26 sicuramente Ferrari rimarrà comunque con il suo motore perché in effetti è proprio un costruttore globale ecco essendo un costruttore globale rimarrà però certo il futuro chiaramente cioè un futuro lontano chiaramente non lo possiamo prevedere dobbiamo rimanere al 2025 o al 2026 quando cambieranno nel 2025 si cambieranno i regolamenti anche per quanto riguarda il Power Unit poi avremo modo comunque durante il prossimo anno così ve ne parlerò perché si stanno già mettendo già le basi la federazione sta già lavorando sulle basi di come potrebbe essere il futuro Power Unit di linea di massima l'80% è già stato la cosa io ho già ho già preso tutti gli appunti so già perfettamente dove la federazione vuole portare questo nuovo Power Unit avrò modo comunque in futuro di parlarne tornando a quanto mi hai alla domanda per quanto riguarda la domanda dico essendo un costruttore globale penso che Ferrari rimarrà con il suo motore Ferrari ma sì la mia la mia ammetto che era un po' una provocazione Mario perché almeno per il momento penso che sia proprio visto che si parlava appunto di nuovi motoristi che entrano nel panorama della Formula 1 giustamente hai fatto una provocazione dicendo ma magari chissà Ferrari potrebbe decidere magari anche lei quello ecco è sempre stata una nota nel senso Ferrari si contraddistingue proprio per essere costruttore è un mito esatto esatto però ripeto ecco chissà in futuro se mi permettete visto che stiamo comunque andando verso quasi la fine della trasmissione Elena scusami e Marco scusami se mi permetto di oltrepassarvi di bypassarvi se mi permettete vorrei dire questo per quanto riguarda l'ottima performance che ha fatto la Ferrari proprio ieri vorrei quasi dire carpe diem cogliamo l'occasione di poter continuare il prossimo Gran Premio che sarà proprio domenica Gran Premio dell'Arabia Saudita e poi il Gran Premio dell'Australia sperando proprio diciamo cogliere l'attimo per dire sfruttiamo questo momento che ci è favorevole certo non abbiamo un secondo su Red Bull la Red Bull è proprio lì vicina pertanto sarà da capire se riusciremo magari a vincere o arrivare magari secondo sicuramente in queste prossime altre due gare la lotta sarà Ferrari a Red Bull cerchiamo almeno in ottica mondiale di fare i più punti possibili ecco perché poi magari da in uno in poi chi mi dice che la Mercedes potrebbe entrare in una lotta a tre questo probabilmente non lo sappiamo però cogliere soprattutto l'Eclair saper cogliere e mettere come si suol dire si dice sempre fieno in cascina per il colpo grosso adesso qui magari stiamo andando avanti qualcuno giustamente telespettatore sta dicendo eh Mario calma stiamo calmi è solo il primo Gran Premio sì certo è vero mi mancano ancora 22 sono d'accordo c'è da stare calmi però ecco penso che in Ferrari cerca di carpe diem ecco cogliere l'attimo di sfruttare questo momento favorevole di prestazione della Ferrari proprio per incamerare più punti possibili che potrebbero venire buoni più in là magari nella stagione perché poi c'è lo step by step per quanto riguarda gli sviluppi c'è un mondiale nel mondiale anche con gli ingegneri ricordiamoci c'è un mondiale perché gli sviluppi ogni scuderia ha gli ingegneri che sviluppo pertanto adesso puoi essere davanti magari tra 4 5 Gran Premi magari sei indietro due decimi dalla Reb 1 o dalla Mercedes pertanto dico visto che siamo leggermente davanti sfruttare questo momento perfetto noi siamo arrivati già alla fine di questa seconda puntata di 20.000 giri io ringrazio gli ospiti in studio Maria Zucchelli e Marco Iori per essere stati con noi e ci rivediamo lunedì prossimo grazie a tutti